Perché quasi due anni di silenzio su questa vicenda e qual è adesso la sua posizione anche alla luce degli ultimi sviluppi? Due anni di silenzio perché mi pareva giusto e corretto che dopo una sfiducia datami dalla mia maggioranza e dall'opposizione relativa al fatto che a detta loro non ci fosse stata trasparenza nel percorso che avrebbe portato a una predisposizione di progetto preliminare per la nuova scuola Clara Maffei, mi pareva giusto che fossero la maggioranza e l'opposizione a garantia dei cittadini clusonesi la realizzazione di quanto a detta loro io non ero riuscito a portare in porto. Febbraio 2012 l'architetto Bernardo Percassi presenta un progetto per la nuova scuola dell'infanzia più vicino a un progetto esecutivo che ha un progetto preliminare. Passano 22 mesi, 22 mesi durante i quali maggioranza e soprattutto opposizione avrebbero dovuto pretendere le stesse cose che forse prima non avrebbero dovuto chiedere al sottoscritto e ci ritroviamo con una richiesta presentata in aula dal Consiglio Comunale, una richiesta da parte del Consorzio degli attuatori di ulteriore proroga e di variazione degli accordi convenzionali. Qualcuno dice l'opposizione con il rischio di una grave perdita di denaro in capo all'amministrazione, altri sono più preoccupati del fatto che le date previste in convenzione non possano essere rispettate. La mia personale considerazione è che sia la maggioranza che l'opposizione abbiano preso due anni fa un grosso abbaglio e abbiano sbagliato bersaglio. Sbagliato bersaglio perché? Perché ascoltando gli interventi in aula di chi rappresenta i gruppi, le affermazioni di oggi sono difformi completamente da quelle di un paio di anni fa. Il bersaglio allora era l'assessore in carica, vice sindaco di passaggio, era il presidente della fondazione Clara Maffei, ingegnere Borelli, era il progettista incapace. Oggi tutto il Consiglio si scaglia contro il Consorzio degli attuatori, citando e chiamando in causa la parrocchia di Crusone, la curia, imprese immobiliari, società. E fatevi raccontare poi dei diretti interessati eventuali particolari oppure invito tutti quanti a leggere i verbali della seduta di Consiglio Comunale. La mia personale valutazione in conclusione è che se siano davvero questa volta persi 22 mesi siamo in grave ritardo, fortuna vuole che i nostri piccoli bimbi siano educati in un luogo eccellente grazie al fatto che la congregazione delle suore proprietarie concede in affitto i locali, grazie al fatto che i consigli di amministrazione, chi più chi meno, siano sempre impegnati nell'ottimale conduzione della scuola insieme evidentemente a tutto il personale, che abbiamo un edificio di proprietà della fondazione che è vuoto per la prima volta nella sua storia e che quindi potrà essere oggetto o di un intervento radicale o di una ristrutturazione nel caso gli attuatori non siano più in grado di realizzare l'opera. Però questo, come ha ricordato il sindaco Olini, è il momento della decisione finale per cui o si fa o non si fa. Se non si dovesse realizzare, mi pare che il Consiglio intero abbia indicato questa volta correttamente dove siano le responsabilità delle linee adempienze.